Noi abbiamo indetto oggi questa assemblea del personale perché lamentiamo un'assenza di infermieri, di ausiliari e anche in taluna strutture di medici e quindi noi chiediamo all'amministrazione di far affrontare questa assenza sia spingendo al massimo sulle assunzioni a tempo determinato e sia di razionalizzare i posti letto in attesa che la Regione autorizzi lo sblocco delle assunzioni a tempo indeterminato e delle stabilizzazioni. All'altro pratico i sindacati, a parte comunque affiancare i lavoratori, cosa possono fare in questi momenti di punto di disagio? Noi sicuramente proporremo all'assemblea quello che ho detto prima, cioè che l'amministrazione spinga al massimo sulle assunzioni, razionalizzi i posti letto e che naturalmente in attesa, se non ci saranno queste risposte, andremo sicuramente a forme maggiori di protesta che sono la proclamazione dello stato di gestione dal prefetto. L'azienda spiegare ha enormi difficoltà ad applicare quei sono i criteri di sicurezza, di organizzazione per quanto riguarda il personale infermieristico e non infermieristico e quindi di fatto ci si trova di fronte a una situazione paradossale perché da un lato il Governo stanzia le nuove leggi, mette in essere le nuove leggi, fra cui in un'ultima quella sul rischio clinico. Il rischio clinico impone al lavoratore di seguire per la sicurezza delle cure al paziente, terminate le linee guida, terminate le procedure. E quindi questo poi in effetti a livello di responsabilità penale ha un peso notevole perché nel momento in cui il professionista dimostra di applicare le linee guida comunque è una sua tutela. Questo diventa difficile proprio perché per poter applicare queste linee guida e queste procedure in un'azienda ospedaliera con carenza di risorse strumentali e di risorse umane ci si trova a fare un po' tutto ma facciamo tutto e lo facciamo male.